Siamo qui sul clima rigidissimo del Kennedy Stadium Sunday Cup, non dico mica tanto, bella Tor, formazioni fanno il loro ingresso in campo schierate ora lì allo centro del Mantebusto a salutare i propri tifosi formazioni che passano a darsi il 5 dalla telecamera il moribondo Boateng con l'arbitro Alessandro Passarella che ora chiamerà a sé i due capitani che sorteggeranno il tocco per la quale per il campo è arrivata anche la casacca Quadriamo il ciuffo di gottardo incredibile possiamo andare a iniziare a mettere un po' beccia ragazzi Quadriamo il ciuffo di gottardo? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.